Nessun contatto diretto dopo la reciproca disponibilità a riaprire il dialogo promessa dai microfoni del TGNORB poco meno di una settimana fa. La Regione Puglia e l'immobiliarista americana Alison Dayton si sono parlati attraverso l'intermediazione del sindaco di Nardò, Marcello Risi, che ufficialmente ha richiesto all'assessore all'urbanistica, Barbanente, di stabilire un incontro chiarificatore al fine di approfondire il progetto del resort turistico tra gli olivi di Sant'Isidoro, in Salento. Un investimento da 70 milioni di euro, bocciato dopo una trafila burocratica di sei anni dalla giunta vendola sulla base del parere paesaggistico contrario espresso dal Ministero per i beni culturali. La manager americana, dal canto suo, continua a dare battaglia sui giornali ed in attesa del faccia a faccia l'assessore Barbanente ha accolto l'invito del sindaco Risi. L'incontro possiamo fissarlo subito, ha riferito al primo cittadino. Al TGNORB però puntualizza la posizione della regione Puglia mentre si imbarca sul volo per Stoccarda per partecipare a un convegno internazionale. La giunta regionale dice attenderà il verdetto del Consiglio di Stato che si esprimerà nel merito della vicenda tra qualche mese. Al giudice di secondo grado in pratica spetterà l'ultima e definitiva parola sulla fattibilità del resort. Per guadagnare tempo e trovare un'eventuale soluzione alternativa, aggiunge Barbanente, gli investitori possono presentare una nuova istanza con presupposti tecnici e urbanistici diversi, solo in quel caso potremmo rivedere il nostro no.